Presidente Lupi, conto alla rovescia ormai scattato, torna a Olio Oliva, torna nel centro storico di Oneglia con tutte le vie coinvolte? 8, 9, 10 novembre, Olio Oliva, 24esima edizione, novità logistiche per necessità oggettive, quindi non più via Berio, è diventata strada di grande traffico con l'apertura con via Garessio, lo storico via Bonfante rimane dedicato all'evento e nuova collocazione piazza San Francesco e naturalmente le vie limitrofe storicamente. Abbiamo potenziato la banchina Icardi, ex deposito franco per intendersi là dove ci sono le gru, che è diventato uno spiagno estremamente importante e appertibile, naturalmente è calata di Vicuno e quant'altro. Vi è molta attesa, abbiamo una richiesta estremamente importante, siamo quasi in overbooking per gli espositori, abbiamo la felicità di celebrare finalmente un'annata olivicola di scarica, c'è tanta produzione olearia, bellissime olive e ottima qualità ma anche quantità, quindi sicuramente avremo grandissimo successo per quel che riguarda l'olio a castravergine e cultivo artaggiasca nel nostro territorio e attendiamo moltissimi visitatori italiani e stranieri.